Io ringrazio Liberi TV in questo momento perché mi dà la possibilità di parlare di una persona che io ammiro molto, a parte vogliargli molto bene, ma lo ammiro per le scelte anche per i con... Oddio Gianni scusami. Oggi è così, sono stanca. Vado? Dall'inizio posso fare come gli pare? Dall'inizio, faccio l'inizio. Ho comprato una casa da mettere in affitto e non a Roma, poi vi racconterò come era già intraprendente allora. Ha girato tantissimo, mezzo mondo oserei dire, sicuramente quasi tutta l'Europa. Oggi a Roma possiede delle belle percentuali in tre locali. Siamo nel suo terzo locale dove ha la percentuale maggiore, che ha un mese. Questo locale già vanta un grande successo. Io sono felicissima di presentarvi Giorgio Rizzo Mungo, per me sempre Moretto. Ciao Sheila, grazie anche a LibriTV. È un'emozione particolare ovviamente farsi intervistare da te, perché ho iniziato i primi passi a muoverli insieme, con te, con Diego, tuo marito. È chiaro che c'è un legame particolare tra noi. Nel frattempo sono cresciuto, ho fatto tante cose, come parallelamente è cresciuto anche senza barcode, e tutti i tuoi progetti. Quindi adesso è così, siamo qui, i sette anni possono essere pochi come tanti, sono a cambiare tante cose, siamo cresciuti tanto, c'è stato tanto impegno, tanto sacrificio e adesso si vedono i risultati. Insomma, bisogna però continuare sempre più forte. Allora, vi spiego innanzitutto, Giorgio è un timido. Però io, sette anni fa, Gianni sa bene come è nato Senza Barcode su una piattaforma gratuita, lo racconto sempre. Quando Senza Barcode è diventato un sito di primo livello, un dominio di primo livello, ho messo degli annunci, cercavo dei blogger. Il primissimo a rispondermi fu proprio Giorgio, che si presentò con un articolo sulle carceri, mi parlò di carcere, quindi potete immaginare come mi rimasi subito affascinata. Non tanto perché magari era scritto bene o nella forma dell'articolo, quanto appunto nel contenuto, quello che un ragazzo di 19 anni già mi voleva raccontare. C'era comunque tutta una storia familiare che lo aiutava a conoscere bene le leggi. Dopodiché lo perdo per un periodo, anche se appunto aveva già iniziato con questo gruppo e già preso casa, e poi me lo ritrovo come ora. Ma Giorgio, un ragazzo di 26 anni, ma allora 19 anni, che decide di prendere una casa e metterla in affitto non a Roma, ma dove e perché? A Budapest, in Ungheria, perché ci sono andato con degli amici, mi sono innamorato della città all'epoca, adesso è anche migliorata, e diciamo con il fondo che ero riuscito ad accumulare con la musica, anche se in buona parte erano anche progetti di beneficenza, insomma ho portato avanti questo acquisto, all'epoca anche per fare esperienza, con un mediatore italiano-ungherese. Ho preso questo immobile, poi l'ho girato in affitto, anche perché lì ovviamente sia i costi della vita, degli immobili, ma anche le tasse all'epoca permettevano a una persona di 19 anni, che aveva comunque lavorato un po', però comunque l'età era relativa di intraprendere questo percorso di investimento. Ovviamente il primo passo fu quello, ci sono rimasto affezionato, ne ricordo, anche se ovviamente i margini erano, era una operazione abbastanza semplice di per suo, era più che altro il coraggio di andare lì sul posto, con la lingua diversa, la valuta diversa, però insomma andò bene, acquisì più sicurezza in me stesso, nei miei mezzi, e quindi passo passo poi con i sacrifici, con tanto lavoro, anche con incontri fortunati, sono riuscito poi ad ampliarmi di più rispetto a comunque un'operazione che aveva una sua semplicità. Decidere di mettersi poi nel mondo della ristorazione, dei locali, poi a Roma non è facile. Sicuramente c'è una base economica senza la quale non si può cominciare, ma ci sono anche tantissimi dischi. Eroi del pensiero, via Roma Nero da Forlì, è il tuo terzo locale. Quali sono gli altri due e in che percentuale? Io dico un attimo, premetto, che la base economica me la sono fatta esclusivamente da solo. Questo è importante perché costruendo tassello per tassello si capisce quanto abbiano importanza i vari investimenti, le varie spese, i vari ricavi, perché io ho conosciuto tante persone che hanno avuto una base economica dall'esterno, dalla famiglia, e ovviamente sembra di avere un potere illimitato economicamente, si fanno tanti passi falsi, ma la crescita, gli obiettivi si raggiungono non avendo nulla al di sotto dei propri piedi, delle proprie scarpe. Quindi il passo al dirupo, quando è vicino, bisogna proprio considerare passo per passo. Gli altri locali ne ho uno al centro, seppur una piccola quota, e l'altro vicino l'Università della Sapienza. Questo qui è dal primo aprile, l'ho acquistato, è ovvio che è la creatura più giovane, quindi ci tengo particolarmente. Prossimi progetti? Tra un anno e mezzo, il quarto, se va bene questo, stiamo lavorandoci tanto, tanti sacrifici, quindi bisogna sempre andarsi ad ampliare, perché se acquisisse esperienze, se acquisisse più sicurezza della base economica, il personale è la risorsa più ampia, più di qualità, quindi bisogna formarli, dargli dei premi, rispettare tutte le tasse, tutte le pendenze. È ovvio che è dura, però se ci vuole più tempo per crescere, bisogna però farlo in maniera sana, quindi aspettare, non avere fretta, non improvvisare mai e arrivare poi piano piano al traguardo. Giorgio, tu hai 26 anni, 27, 12 dipendenti, tutti con un contratto più che regolare. Beh, io trovo, devo chiedere, cosa pensi del reddito di cittadinanza? Ovviamente seguo, mi informo, perché è importante per poi farsi una propria idea. Il reddito di cittadinanza può essere una buona soluzione, però mi fa un po' di tristezza relativamente il fatto che la soluzione sia un sussidio, un reddito a chi non ha un lavoro, a chi magari neanche lo cerca, anziché andare a cercare il lavoro, va a cercare il sussidio. Questo è un po' un paradosso dei nostri tempi, perché il lavoro, come appunto ha detto anche settimana scorsa pure il Papa, per il primo maggio, è proprio un diritto, ma è anche un dovere di ognuno di noi, secondo me. Quindi il reddito di cittadinanza può essere una soluzione temporanea, senza poi scendere sotto gli aspetti politici, le strumentalizzazioni, però può essere una soluzione temporanea che però stimoli le persone che oltre a ricevere il sussidio economico possano partecipare a dei corsi di formazione, possano ampliarsi, possano avere un curriculum che possa raccontare quello che loro sono, che poi comunque il curriculum, l'hanno ricevuti anche tanti in passato, è un foglio, però è la persona che parla, non è il curriculum che fa i piatti, non è il curriculum che fa i caffè, è la persona che deve avere voglia, entusiasmo, grinta nel voler lavorare e nel voler migliorarsi. Cosa diresti a un ragazzo di 26 anni che sta per discutere la tese in giurisprudenza da un sacco di tempo, ma prima o poi lo farà, che ora non lavora ma che vuole fare qualcosa della sua vita. Cosa gli consiglieresti? Gli consiglio di fare qualcosa assolutamente nella propria vita, anche che sia al di fuori del lavoro, viaggiare se si hanno le possibilità, studiare, frequentare, non stare a casa, conoscere, imparare, uscire, diciamo, metaforicamente ogni mattina con un borsone vuoto, per poi la sera che il borsone sia riempito di persone nuove, che ha incontrato, esperienze che ha vissuto, seppur semplici, ma ogni giorno bisogna arricchirsi, non bisogna stare sul divano a guardare le tv, altre cose, anche se non si hanno i mezzi, anche se non si hanno le capacità, bisogna recuperare, viversi le 24 ore della giornata a pieno, dormire relativamente, uscire, conoscere, incontrare persone, avere voglia di fare, poi le soluzioni ci sono, magari possono esserci problemi economici, problemi familiari, ma bisogna essere sempre attivi, agire, non in piazzetta, gli amici, per poi prendere strade anche sbagliate, tutto quanto, bisogna combattere per se stessi, ogni giorno, e guadagnare un centimetro, giorno per giorno, fissandosi un obiettivo. Io non voglio che Giorgio sia preso come l'esempio che liberi tv o senza barcode stanno portando avanti, è semplicemente un ragazzo che ci ha provato, secondo me è giusto riconoscere che ce l'ha messa tutta e sta andando bene. Giorgio deve discutere la tesi in giurisprudenza, quindi tutti quelli che lo incontrano gli dicono Giorgio la tesi perché lui se no non lo farà mai, vi consiglio però almeno un caffè, inviare un anello da Forlissette, venite da Giorgio, venite a nome di Gian Nicolacione e Sheila Bobba. Ciao!